quindi abbiamo delle certe aspettative che vogliamo e dobbiamo raggiungere per ritornare o avvicinarci ai fasti di un tempo non siamo la Sampdoria dove potrebbe giocare Cialanulu e ripeto, non capisco come tu non osi mai criticare questo giocatore che guardando le pagelle non è che sono io che lo dico guarda le pagelle di ogni partita rientra sempre tra i peggiori e non da una partita io ho visto partite di fila pure dove ho riuscito ad avere sempre il peggior vuoto tu cosa fai? perché Cialanulu non performa come tu credi che dovrebbe performare perché tu credi tanto in lui a chi dai la colpa? a Gattuso a un Gattuso che sta facendo miracoli con il nostro Milan siamo al quarto posto ragazzi con tutti quegli infortuni certuni dicono i gol all'ultimo lì col Genoa e Udinese sì sì però i gol che abbiamo preso all'ultimo tutti se li dimenticano contro la Lazio, contro l'Atalanta, contro l'Inter comunque quindi non abbiamo assolutamente fortuna meritiamo di stare dove stiamo con una squadra a cui mancano giocatori c'è tutti infortunati ci manca tutta la difesa Romagnoli giusto giusto nel periodo che aveva fatto quei due gol all'ultimo quindi diciamo ci manca proprio in quel momento e magari era ora il suo momento che diciamo sapete com'è? certe volte ci sono quei momenti che può trascinare un'intera squadra il capitano comunque Gattuso a parte che è criticato e pure Gattuso le pagelle lo confermano Suso salta l'uomo molto meglio di come lo faccia Cianalolo quindi ragazzi veramente ragionateci su e cosa più importante è l'aspetto psicologico nel calcio la famosa mentalità per poter giocare in certe squadre che hanno delle aspettative di cui noi di cui noi ne facciamo parte invece voi che fate? appena fa una buona partita col due de lance oppure contro non lo so lo può fare anche con una grande squadra ne fa una di buona partita io voglio una certa continuità o almeno cioè non posso nemmeno dire che sia discontinuo cioè fa una o due partite buone e dieci di cacca cioè ragionateci su veramente ragazzi Ciala cioè nel calcio l'aspetto psicologico è fondamentale e Ciala è un ragazzo molto molto debole che a mio avviso avrebbe bisogno vi faccio l'esempio poi bisogna fare anche un discernimento nelle valutazioni l'esempio Tiago Silva era un ragazzo secondo me troppo convinto di sé quando era da noi e lo è ancora un pochettino però in Spagna gli sta riuscendo di meglio diciamo l'ha nell'indole questo carattere lui è sempre avrebbe bisogno un po' più di umiltà Ciala Loro è l'esatto contrario avrebbe bisogno più più convinzione stile diciamo quello che ho detto Silva Andre Silva non Tiago Silva quello che è esempio Tiago Silva ha quindi riflettete attentamente mentalmente e questa è la prima cosa nel calcio per essere un campione mentalmente Ciala Loro non porta le qualità per poter essere quel numero 10 che voi credete sperate io ve lo dico già da adesso non sarà così quindi perciò Ciala Loro va assolutamente rimpiazzato con un altro giocatore liberiamocene al più presto possibile gli auguro tanta fortuna dove andrà andrà ma è un giocatore per queste squadre qua Sassuolo Parma Sampdoria insomma media classifica con tutto il rispetto parlando per questo video è tutto ho concluso il ragionamento su Ciala Loro con tanta di quella ragione e spero che adesso comincerete a capirlo che sia così effettivamente per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video un caro saluto dal vostro Leo grazie a tutti